Che cazzo è successo? Ti prego, aiuto! Chris, ci sei? Salve! E grazie a tutti di essere qui. Dio, Joshua, svegli! Questa notte faremo un piccolo esperimento. Una specie di testa. Per questo esperimento ci servirà la collaborazione delle nostre due cavie, Joshua e Ashley. Cosa? Oh mio Dio! Ma ci servirà un altro volontario che dovrà scegliere quale cavia vivrà e quale cavia morirà. Oh mio Dio! Dio Dio! Dio Chris! Raggi fuori di qui! Per favore! Non so vietare, maledetto! Su, su, calmatevi tutti. È molto semplice. Christopher, troverai una leva proprio davanti a te. Quello che dovrai fare è scegliere chi vuoi salvare. Oh no! Per pietà non può essermi! Merda! Merda, no! Dio Dio, non è giusto! Ok, 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 ok. Andrà tutto bene. Amico! Bello! Vediamo di ragionarci un attimo. Chris! Non puoi lasciarmi morire! Un attimo è solo un secondo, io morisco a pesare. Sfrontate! E se ti giuro che ti salverò Non ti lascerò a morire Grazie Grazie Questa è una pazzia È folle Non può essere vero Chris, dimmi che non sta succedendo davvero Io Io Non so cosa fare Ascolti Bello, ne abbiamo passate tante insieme Dai, non voglio morire così Oh no, Chris Hai scelto di salvare Neshmer Oh no No, 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 no Scusa, scusa, scusa Come puoi fare questo? Sei pazzo Basta No Fermati, non puoi farlo Che cosa ho fatto? Non puoi farlo? Chris, diretti pari di qui Non guardare, Ashley Perché non devo guardare, Chris? Dimmi che sta bene, ti prego Sto arrivando, Ashley Adesso ti faccio scendere Ora basi Dai, su, dai Ti faccio scendere Forza, dobbiamo andare via No 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 Dobbiamo andare, ok? Sì Chris Un pazzo Oh mio Dio Dobbiamo andarcene da qui Non riesco a capire cosa è successo C'era un pazzo C'era una sega Dovevo scegliere o lui per esce Io non sapevo cosa fare Dio L'ha tagliato a metà Lo ha ridotto a brandelli Cosa? Oh mio Dio, Chris Cosa? L'ho ucciso L'ho ucciso È stata colpa di Dio No, no È una pazzia Dobbiamo chiedere aiuto È a tua metà Vedrai che c'è la cazzo Non lo so Non lo so Mette, ci serve aiuto ora Non lo so Lo so M, dovremmo cercare gli altri Mike e Jess sono a divertirsi Mentre Sam chissà dov'è Credo che sia alla bacca Bene Sì, hai ragione Raduniamo tutti quanti Ma se c'è un manioco in circolazione Dobbiamo anche chiamare i soccorsi Giusto? Non possiamo solo aspettare Ma se... Stiamo perdendo tempo a parlare Andiamo! Grazie